Siamo tardi, però pensiamo invece di un liceo per dare a qualcuna questa gente, perché quando concludiamo cazzo di strumento, è vero bravo, dicelo, alzate le palle, c'è un altro fuggimento indietro, spiego le dite, se non si vende poi le tasse, le armi, rimane così, qui, adesso, da poco, farfallano, è definita, ognuno torna nella sua timora ed è finito lì, che si è concluso? Niente. Bisogna combattere. Mi dovete capire solo che fra poco saremo tutti per strada, senza più marina, senza più centesco, e camminano sulle nostre porte, e le armi e le pelle d'altro sforzo. Mi piace? Questa è la politica, la politica siamo noi, il popolo italiano, il popolo italiano, bisogna combattere, bisogna combattere, bisogna combattere, bisogna combattere, e prendere la politica, bisogna combattere, 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 Grazie a tutti.